buonasera buonasera a tutti anche se da me buongiorno dovrei dire siamo in collegamento di nuovo con una nuova trasmissione di quattro chiacchiere con questa volta la mia ospite e elena andreotti e voglio due parole sul format di questa nostra chiacchierata e anche se parliamo ovviamente dei nostri libri però anziché focalizzarci pesantemente sui nostri romanzi attraverso i nostri romanzi noi parleremo di alcuni in questo caso un tema che vi dirà elena temi di vita che possono essere o temi che riguardano la persona quindi temi di personalità sentimenti oppure temi di vita che possono essere anche di tipo socio economico piuttosto che nell'ambiente scientifico eccetera e allora io lascio un attimo la parola a elena che ci dice non sono chi è cosa fa ma anche il tema della di questa cacchierata ciao grazie marcella allora io sono elena andreotti vivo in italia in provincia di roma nelle vicinanze di roma ora si chiama area metropolitana di roma comunque precisamente mentana ecco se vi ricorda qualcosa mentana la battaglia coi papalini garibaldi che ebbe una sonora sconfitta da queste parti ecco io qui in un contesto storico che sicuramente a marcella farebbe piacere approfondire ecco abito qui ma sono nata in abruzzo e sono laureata in sociologia e il tema che ho scelto avendolo anche in comune con marcella per un libro sono biotecnologie perché ulteriormente alla laurea per una passione mia presi un diploma post universitario in bioetica quindi tutta l'etica che riguarda i comportamenti nei confronti della vita la manipolazione eccetera per lungo tempo è solo l'argomento che è diciamo che è stato il motivo occasionale come si diceva una volta quando si parlava delle delle poesie chi è che ha spinto il poeta a scrivere una determinata poesia il motivo occasionale per me il motivo occasionale di questo mio libro che è intitolato si vede concentralo un po mettilo davanti alla tua faccia così siamo abbastanza un po più in alto un po più in alto Elena qui no alto più in alto il libro ecco ok il nome di mio padre il nome di mio padre ci fa subito capire che è un argomento che riguarda la parte la paternità ma una paternità particolare di cui parleremo andando avanti con con marcella per cui ecco quando marcella mi ha chiesto un tema da trattare in comune io ricordavo un suo libro che poi appunto di io illustrerò lei e ricordavo un suo libro e che in qualche modo avevamo in comune il tema delle biotecnologie di questo è il tema che ci ha che ha unito questi due libri peraltro abbastanza diversi e per concludere scrivo da da 4 5 anni non che prima non scrivessi ma non mi occupavo di narrativa fatto ho trattato altri argomenti ecco da 5 anni a questa parte mi è piaciuto cimentarmi nella narrativa in particolare nei gialli quindi comune con marcella il piacere di leggere e scrivere gialli allora io quando Elena mi ha comunicato appunto delle biotecnologie è un argomento interessante non solo perché anch'io diciamo in un libro di cui vi faccio vedere la copertina ho trattato anche se in maniera diversa è un settore diverso delle biotecnologie ma che impatta sempre in ogni caso su aspetti di etica e di morale diciamo ecco a grandi linee e nel mio caso io sono un ex informatico ho lavorato circa 22 anni in italia perché adesso vivo adesso insomma ormai sono 15 anni vivo negli stati uniti a si vicino seattle e ho lavorato nel settore informatico lavoravo lavorato per tanti anni in ibm italia e poi in un'azienda del gruppo ibm e però ho sempre avuto questo pallino in altri diciamo altri tipi di hobby la scrittura sono nata come elettrice fin da piccolissima da avevo otto anni scrissi un giallo poi non scrissi più gialle non ho scritto per tanti anni per un po scrivevo poesie e poi infatti ho intenzione di scrivere un librettino con le poesie che scriveva mia mamma e quelle che scrivevo io e invece negli ultimi anni soprattutto dopo la morte di mio papà c'è stato questo evento scatenante ho cominciato a scrivere prima scrivevo racconti lunghi e da un po di anni romanzi allora per quanto riguarda il tempo il l'argomento di biotecnologie dimmi elena se si vede si vede bene sì 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 allora il romanzo si chiama virus nemico invisibile che pur essendo nato diciamo come idea di trama di romanzo verso l'inizio della pandemia in realtà non parla della pandemia di fatto e anche perché era un tema che purtroppo serio e troppo triste diciamo non era il caso e e diciamo lo stimolo è stato perché quando più o meno è nata la pandemia da tenere presente che io e molti qua nella zona di Seattle già sapevamo a livello così puramente di voci di corridoio per motivi molto semplici che in Cina già c'era un virus però non si era capito di fatto la forte entità lo sapevamo perché molte aziende qui in zona che hanno le fabbriche in Cina i dipendenti ai dipendenti erano stati aboliti cancellati tutti i viaggi e quindi c'era questo vociare tra dipendenti Microsoft Boeing a destra a sinistra che c'era questo virus allora io ho analizzato questo tema sotto alcuni aspetti e mi sono ricordata che in quel periodo un po prima c'era stato un grosso evento di economia politica reale da cui io poi che ha coinvolto due grandi potenze mondiali e come succede spesso anche se io non sono una di quelle che crede alle ai complotti teorie complottistiche eccetera però ho creato il mio complotto la mia la mia trama allora Elena dici parlaci tu inizia un po il tuo tema nell'ambito del romanzo e un po di tue considerazioni sul tema allora il titolo intanto di questo giallo è il nome di mio padre e l'ho in qualche modo è stramolato da un titolo di una ricerca svolta in america su un particolare tipo di tecnologia biotecnologia che è la fecondazione artificiale cioè detta anche procreazione medicalmente assistita ma insomma e viene fatta in laboratorio quindi non è naturale e perché questi studi sono fatti in america perché in america questa tecnica iniziata molto prima che in europa e sostanzialmente consiste nell'utilizzare il seme maschile il seme femminile lo spermatozoo e l'ovulo per creare una nuova vita al laboratorio un embrione che poi verrà impiantato nell'utero materno nell'utero ovviamente materno questo tipo di fecondazione essendo extracorporea può essere fatta anche mediante il seme altrui questa fecondazione si chiama eterologa l'eterologa nel tempo per un uso anche come posso dire allegro ha creato una serie di problemi nei soggetti che sono nati da queste tecniche e poi non dimentichiamo che poi viene fuori una persona con la sua identità la sua personalità emozioni desideri eccetera questo studio è stato intitolato adesso perdonatemi la pronuncia inglese my daddy's name is donor il nome di mio padre è donatore perché si chiamano donatori anche se in america vige il pagamento del donatore maschile del donatore femminile infatti il posto lo fanno per soldi cioè perché appunto depositando nelle banche del seme prendono dei soldi esatto e questo porta ma che cosa a un'esagerazione nel donare il proprio seme di conseguenza nel tempo è accaduto che siano nati più figli di un padre donatore molto meno accaduto col seme femminile per quale motivo per le donne è complesso prelevare l'ovulo se è necessaria una stimolazione ormonale e questa pratica non può essere ripetuta più volte pena la salute della donna ogni tre mesi lo so benissimo perché l'ho fatto io non si può fare più di un tot perché altrimenti dicono almeno una quindicina d'anni fa quando ho provato io consigliavano non più di cinque o sei volte in maniera esagerata già e ripeto dovevi avere una pausa tra un tentativo un altro di tre o quattro mesi perché comunque la salute ne risente sono comunque iper stimolazioni ormonali quindi è più facile trovare al mondo uomini che hanno donato il seme hanno molti figli che purtroppo ecco perché c'è stato un far west che poi mano a mano hanno regolamentato che cosa è accaduto in questo studio appunto intitolato in questo modo io ho avuto un'occasione di leggerle molte parti non l'ho letto tutto perché appunto è rimasto scritto in inglese in americano però si sono vinte una serie di problematiche da parte dei figli nati da questa un po come i figli anche dei film su storie vere soprattutto di ragazze che hanno voluto rintracciare negli anni esatto esatto tant'è che chiaramente ci sono stati con la possibilità di internet tante persone che sono messe in cerca dei propri prima la ricerca iniziata voglio sapere chi sono i miei avi no attraverso il dna però l'hanno fatto quindi sono uscite fuori tutta una serie di sorprese e tanti hanno scoperti hanno scoperto di essere imparentati fratelli sorelle ora parte lo shock credono perché qualcuno neanche sapeva di non essere figlio del proprio genitore padre e madre che fosse ma per alcuni comporta un serio problema psicologico io non so da dove vengo quindi non so dove vado ecco e con conseguenze simili a quelle che accadono per le persone che hanno per esempio ehm problemi ehm che portano alla tossicodipendenza no quindi con tutte quelle conseguenze ehm atteggiamenti aggressivi asociali insomma problemi molto grossi questo ha portato anche a ovviamente a studiare una norma che consentisse intanto di conoscere il nome del proprio eh padre perché era prima adesso anche in Italia si comincia a permettere di sapere chi sono i veri genitori naturali e questo ha portato un po' a una riduzione a una riduzione esatto della tecnica perché chi chi non volevano assolutamente anche avere rogni anche perché poi eh non so appunto com'è sia in in Italia ma sempre più in Italia in via diciamo normale ormai eh un uomo eh che eh ha una relazione con una donna e nasce un figlio anche se quest'uomo non ne vuole sapere per legge eh è costretto a mantenimento a mantenere e questa cosa sta creando almeno negli Stati Uniti molte disquisizioni legali di questi figli che molti poi si trovano eh magari anche in situazioni eh economiche e critiche e c'è ecco quindi il tema ascolta Elena siccome il tempo trascorre sì sì e ci molto sinteticamente prima che io prenda la parola eh questo tema calato un pochino nel tuo romanzo un po' piccoli diciamo una piccola bibliografia chiamiamolo così anche degli indirizzi internet per poter scoprire altri fatti tipo un ginecologo che aveva 600 figli perché provvedeva da sei c'è veniamo al libro ehm diciamo che ehm la protagonista è Deborah Nardi che è una quasi omonoma omonima di Marcella eh però l'ho creata prima di conoscere Marcella eh Deborah Nardi che è un'investigatrice ehm dilettante anche se in questo romanzo è diventata ehm essendo criminologa è diventata anche consulente dei Carabinieri e eh il personaggio principale ehm oltre a Deborah ed è già morto si chiama Filippo il Bello meglio Filippo Belli ma tutti lo chiamavano Filippo il Bello era anche un noto un compagno ehm ehm oddio Giovanni Belli scusatemi Giovanni Belli mi stava mi stavo confondendo con un altro personaggio scusate Giovanni il Bello quindi non è omonimo di Filippo il Bello ehm Giovanni il Bello ehm in realtà si chiamava Giovanni Belli era un bellissimo ragazzo intelligente eccetera eccetera molto narciso e lui era convinto che i figli suoi sarebbero stati bellissimi tant'è che a un certo punto mette su un commercio un commercio personale dei suoi gameti perché i suoi figli erano bello era bello l'avrebbe fatto intelligenti eccetera eccetera e che cosa accade eh a un certo punto viene trovato morto ehm morto ehm in modo abbastanza anche cruento e virato quindi colpito nella parte a cui teneva di più ehm era un don Giovanni ovviamente eccetera e inizia la ricerca di Deborah delle cause di questa morte eh sul corpo erano distribuite immagini eh di bambini e chiaramente ehm ci è pensato subito alla pedofilia solo che Marcella eh vabbè Marcella Deborah scusa eh oggi i nomi vanno e vengono Deborah Deborah ehm dice di no conosceva bene Giovanni e per quanto Vanesi eccetera ehm non pensava assolutamente alla pedofilia il maresciallo non è convinto tira fuori le sue teorie ehm che ehm chi è ehm diciamo ehm con quelle caratteristiche eh alla fine arriva anche a essere pedofilo anzi la l'accusa di eh il don Giovannismo cela secondo certe teorie l'omosessualità e di conseguenza anche la pedofilia su queste teorie non è d'accordo Deborah e quindi eh si aspetta la indagine e ovviamente non diciamo come no è chiaro però ci sono di mezzo appunto questi figli nati da lui e che ovviamente scoprendo quello che scoprono perché purtroppo c'è di mezzo una malattia genetica eh il morbo ehm di di Huntington a Corea di Huntington e quindi io pronuncio male l'inglese però mi capite Huntington e e quindi c'è di mezzo anche una malattia genetica perché purtroppo se non si analizzano eh non si analizza il DNA si possono trasmettere con queste pratiche eh ovviamente lui ha fatto con un fai da te di conseguenza non ci sono state analisi del DNA ecco quindi il nucleo della storia è questo dei figli che scoprono di essere di non essere del proprio padre e che il loro padre una malattia genetica perfetto ecco nel mio caso invece il tema sempre biotecnologie ma è molto diverso seppur molto discusso perché ehm è una storia di spionaggio che parte per ovvi motivi eh essendo appunto nata durante il periodo della pandemia e eh avendo eh letto in precedenza molte cose sulla famigerata influenza spagnola una prima parte del romanzo ho romanzato quello che è stato diciamo da un punto di vista scientifico l'arrivo eh nel 2005 della scoperta e interpretazione del genoma della influenza spagnola che ehm uccise più di 50 milioni di persone in un momento storico tra il 1918 e il 20 in cui la popolazione mondiale era meno di due miliardi in quell'epoca erano circa un miliardo novecento milioni qualcosa del genere quindi 50 milioni che già di per sé è un numero elevato ma soprattutto a quell'epoca era veramente enorme e però poi eh il il romanzo una volta diciamo arrivato per dei motivi appunto particolari messo tutta romanzata la storia fino al 2005 eh si svolge e nasce di fatto la l'evento moderno nella trama in un'isola diciamo di paradiso nel mio caso le biotecnologie sono dovute a tutti gli studi che vengono fatti nei laboratori eh fondamentalmente non solo per le malattie in generale ma eh tutti quei laboratori che studiano il virus e allora diciamo da una parte è stato interessante perché io non ero bene a conoscenza un po' di come sono fatti i vari laboratori vengono divisi a livello mondiale in quattro livelli ci sono quelli a partire da più basso in termini di pericolosità sia perché ci lavora ma anche pericolosità di una fuori una fuga anziché una fuga di gas fuga di virus e purtroppo diciamo l'argomento perché è molto discusso eh ecco nel romanzo ci sono per dei motivi particolari che ovviamente non sto a dire perché altrimenti rivelerei la trama eh ci sono degli degli esperimenti che vengono fatti su eh i macachi resus macachi resus che insieme ai lemuri della Madagascara eh sono gli animali che vengono purtroppo più usati per gli esperimenti per in quanto hanno una ehm una da punto di vista del DNA ma anche in generale un pochino caratteristiche molto simili eh sono anche primati e quindi è molto discusso il tema da una parte della pericolosità infatti eh anche per quanto riguarda il covid c'è anche ancora sostiene che probabilmente potrebbe anche essere uscito diciamo una fuori uscita una di del virus dai laboratori di Wuhan eh ma fondamentalmente il problema è quello dello studio sugli animali quindi quanto sia giusto per noi umani per il nostro tornaconto personale eh sfruttare e purtroppo in molti casi si arriva a situazioni che sono alla fine tortura per questi per questi animali quindi ehm giustamente da una parte ci sono eh eh nati tanti movimenti proprio in zona siatto li grandi movimenti anche sono nati qui non solo dei verdi per la natura difesa della natura ma anche per gli animali e quindi diciamo il discorso delle le biotecnologie purtroppo nel mio romanzo anche in questo caso impatta molto in tematiche economiche così come nel tuo caso del tuo romanzo quest'uomo per ragioni economiche oltre sicuramente anche per un fatto nel tuo romanzo di narcisismo quindi eh per dire ok questi sono tutti saranno tutti genia mia eh per quanto riguarda le biotecnologie usate nel discorso eh medicina e strumentazione o quindi anche eh eh il vaccini purtroppo entrano in gioco tematiche economiche perché perché quasi tutte sono finanziate molto poche dai governi ma molto di più dalle grandi case farmaceutiche e quando ci so c'è di mezzo il denaro sappiamo che si ci si vende eh spesso anche la propria mamma eh figuriamoci in questo caso ecco quindi diciamo sono tematiche eh per noi scrittori tutte queste tematiche ovviamente sono diciamo interessanti perché ci permettono di scrivere eh trame eh che mentre le si leggono ovviamente sembrano interessanti eh nella vita reale purtroppo molto poco lo sono ecco allora io ehm vorrei che eh ci salutassimo tu ci fai rivedere la copertina del tuo romanzo ok il nome di mio padre e si può trovare eh sugli store online c'è anche la versione cartacea oltre l'ebook e ok e eh io vi faccio vedere il la mia anche nel mio caso ebook e versione cartacea eh sugli store online e eh volevo ribadire una cosa per chi eh ci ascolta che in Italia da vari anni i cartacei si possono tranquillamente ordinare tutte le librerie possono farlo chi dice che non può e perché non vuole non perché non possa farlo e noi ci salutiamo ehm io Elena poi continuiamo a chiacchierare ci salutiamo tutti ciao grazie e scusate qualche qualche qui però ho dovuto alla segreta anche se poi verrà visto in maniera indiretta ma comunque sono cose tranquille senza problemi ciao a tutti ciao quindi da Seattle e dalla provincia di Roma dall'intervento di Roma ciao a tutti ciao benvenuta ciao a tutti ciao Grazie a tutti